Ciao da il mio Reiki, domanda del giorno, ma tu dove lo trovi il tempo per fare i Reiki? Innanzitutto mi presento, mi chiamo Renato Tatasciore e da 22 anni faccio e pratico una tecnica bellissima che si chiama Reiki, una tecnica che mi ha portato a grandi risultati e un grande aiuto nella mia vita, aiutando anche poi chi mi è vicino. Beh, come faccio a trovare tempo? Questa è la domanda iniziale, molto semplice, innanzitutto per chi già fa Reiki è importante ricordarsi che mentre fai qualsiasi tipo di attività ti puoi prima attivare al Reiki, quindi metti che oggi sei stanco e dici ah mi guardo un film alla televisione, fantastico, prima di guardarti il film ti attivi al Reiki e poi tieni la mano a contatto sul tuo corpo e praticamente inconsciamente mentre guarderai il tuo film bellissimo ti darai una bella botta di energia di Reiki o altrimenti in una maniera molto più strutturata, però anche facile. Basta, puoi fare così, analizzi le tue 24 ore e trovi quei periodi morti, quei periodi che praticamente sprechi, tra virgolette, il tempo in cose che non ti danno risultati e che non ti fanno stare bene. Quindi una volta che analizzato le 24 ore, tolto il tempo dedicato al sonno, ai figli, al lavoro, dedicato il tempo alle pulizie di casa, a fare da mangiare, sicuramente troverai un bel pacchetto di minuti che quelli potrai usare per darti i Reiki o comunque per fare le attività che più ti piacciono, anche sport, però sempre attivandoti le Reiki. Ed ecco che così in maniera semplice tutti i giorni puoi donarti questa bellissima energia. Alla prossima, se ti è piaciuto il video metti sotto qui mi piace e ti ricordo la mia pagina fan, il mio Reiki. Buonissima giornata! Grazie!